Carissimi amici di Arendt, è Leonardo Zullo che vi parla, solo qui per presentarvi la semifinale di ritorno tra Monella squadra di Felipe e Black Mamba, valida per il torneo Unicap. Massimo equilibrio nella gara d'andata partita completamente diversa della sfida di ritorno, non è la squadra di Felipe, sblocca immediatamente con Di Don, grazie all'errore del portiere Martone. Conte va vicinissimo al pareggio ma la palla fa la barba al palo. Destro insidioso ma sul fondo, calcio d'angolo per Black Mamba, scuoto, batte il raso terra, male il difensore sul primo, arriva Burattini sul secondo che insacca. È un vero assedio da parte di Black Mamba, la squadra dei Oyarzabal non riesce a bloccare il forcing avversario, arriva anche il raddoppio con il delizioso scavetto di calzone che beffa Ricciardi. Scuoto in contropiede non perdona e fa 3 a 1 sul finale di primo tempo, non cambia musica nella seconda frazione di gioco, Conte calcia di prima intenzione, il pallone dal limite e trova il 4 a 1. Di Lorenzo becca il palo con questa fucilata, Ricciardi fermo sulla linea di porta e poi ancora Di Lorenzo, sempre dal limite, riesce a trovare la via del gol grazie al tocco involontario di Bottiglieri che beffa Ricciardi di laga Black Mamba. Il 6 a 1 è di scuoto in contropiede, 2 contro 1, non fallisce. Rende meno amara la sconfitta di Don sul finale del match con la doppietta personale. Dunque Black Mamba cede alla finale di Unicap e batte, non è la squadra di Felipe, 6 a 2.